Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI in direzione Firenze, un chilometro di coda per lavori tra Empoli ed Empoli Est, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze e Scandicci. Sulla corda autostradale Siena-Firenze, per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Badesse e Siena-Nord, restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Monzi e Tavarnelle. Sulla statale 223 di Paganico resta chiuso il tratto all'altezza di Campagnatico a causa di uno smottamento avvenuto nei giorni scorsi. Sulla regionale Due Cassi, assenso unico alternato all'altezza del chilometro 291 nei comuni di Impruneta e Firenze fino al 31 maggio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.